a tutti che benvenuti in questo nuovissimo video non sono c'è chi so io sono così sono questo qua se la spengo si vede bene non si vede più niente e poi non mi fa l'ombra da qua c'è stato quello centrale e poi questo telefono da qua sono registrato il Huawei Y5 ragazzi speriamo che funziona ma è un po' schifo la qualità però allora oggi non vi ho detto ancora che dobbiamo fare già stavo iniziare allora abbiamo sto coso qua che è del Pilsner Jurkel e un cacciavide in poche parole mi vedete voi questo cacciavide in mano che faccio così no dite ma che cacchio sta facendo Frank Hopp e oggi dobbiamo smontare una calcolatrice di quelle brutte attendete ok almeno è finito si è fermata da qualche parte speriamo che non è morto nessuno però almeno è finito allora proveremo a smontare questa cosa della Pilsner Jurkel ce l'ho scritto qua Pilsner Jurkel è morto uno eh ci sei mia mamma che urla da quella parte e dove si è fermato eh ta no ta to eh queste sono le viti speriamo che mette a fuoco questo schifo proprio piccole allora sta calcolatrice si accende ancora ma è tutta graffiato schermo non è photoshop e poi non è photoshop ma è editing l'editing secondo me non si deve tanto vedere un video cioè ma non tanto si deve vedere cioè un video editato per me non significa che proprio cioè devo far vedere che taglio qualunque cosa si devono vedere e i tagli è tutto perfetto no non è una cosa che si deve vedere è una cosa che viene così cioè allora che è sto schifo perché non si apre e lo spacco no è sto stupido c'è un gancio o quello di testo si è smontato così bene questo non si vuole smontare bastardo ok allora procediamo rimuovendo le alette penso queste lo stringono per adottare al tele aia l'ho rotto al tele aia l'ho rotto il tele significa il telefono ci stanno due cavi rossi tre cavi rossi e l'altro ok tre cavi rossi e un cavo nero colleghiamolo al pils no si colleghiamolo al pils pils pilsner yurkel lo allargo sempre video pilsner yurkel lo sto a fare altri stigioni tre due non ce le ho i cosi le porte usb si sono staccate sono calute stanotte ce l'ho qua in mano adesso sono calute vabbè attacco in 3 2 1 go allora succede o non so succede ok perfetto procederei allo staccaggio ho staccato ok togliamo questo togliamo il pils un pilsner yurkel d'attorno è rimasto in mano questo non mi fido quando toccarlo mentre il pilsner yurkel qua le vitine le metto in modo che te vedete qua perfetto questo pure qua questo non ci serve più ormai questo non credo lo userò vorrei smontare pure un micro mini usb se c'è smontiamo un micro usb mini usb questo quindi aspetta prima che montiamo questo però che poi allora se vi piace sto video è piacere dovete lasciare forza un like se no vengo live vi spezzo le gambe non è vero se no vi è right c'è scritto questo all right babies and girls right destra si e io lo so non da sinistra che coglio come cacchio si monta mi muo bestemmio dai coglio eccolo e il left giusto left questo come cacchio si monta io sempre al contrario vado a montarsi trabico arrugginato ecco qua basta che ci rimettiamo ri ri insidiamo questo così snos così 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 ok mettiamolo come si deve cacca non dice altre parole cacca mettiamolo come si deve ho detto me guarda le parole se sta ammette porco schifo non far stardo è andato è andato chiudiamo no questo perché io devo fare i video quando non poco schifo poco schifo guardate come cacchio l'ho messo e non si chiude manco mo ho preso la corrente ho preso la corrente e che se ne fotte l'ho rimesso non potete cacchiate però non ho messo le video io sono molto intelligente quando voglio fare i video non so niente allora il mini asbios non da questo poi mi hai messo un lavoro con l'altro piccolo ah sono pure calamitate sti video sì perché uno gli viene l'ansia a mettere sti cosa mi trama la mano cacchio quando sono calamitate a volte quando sono calamitate è buono però a volte quando sono calamitate porco schifo mi viene da bestemmiare per paura aspetta un pochino pochino mamma mia quando fai le cose quando fai le cose va bene si si così vai 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 cacchio lo spacco tutto così è tutto graffiato mini usb c'è in mano cacchio guarda se va ma questo me 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 rigo dai uno vuole fare i video ma che schifo santa maria no 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 non lo smontiamo questo qui non si può smontare andremo a bucare una batteria andremo a rompere un Samsung Galaxy Tab E funziona? è tutto apposto che mattaria andremo a smontare il Pilsner Jürkel che modo sicuro sono scasso ah ma io dobbiamo smontare la calcolatrice in tutto questo vado a aprire l'ho rotto perfetto eccolo qua ho scortato il cavo zitti zitti mamma mamma aiuta aiuta eccolo il Pilsner Jürkel mamma mia che bello mamma mia tutto rotto ecco il Pilsner Jürkel è praticamente un cavo con questo manneggio sangue non l'ho rotto completamente io non dovevo smontare il Pilsner Jürkel allora questo lo conserviamo nella mia sacchetta della tecnologia che è questa che mo ci ho messo adesso vabbè c'è una scheda una Kodak e tutti altri pezzi tecnologici metto pure questo la vite non serve niente le metto qua sopra Pilsner Jürkel lo butto qua dentro fa tutti i pezzi pure ci butto tanto si è rotto il cavo però me lo tengo pure questo il cavo me lo tengo però è buono lo butto là alla cacchio di cane quando stiamo così non lo smondo nemmeno 13 minuti vai ho scuartato M plus ma non funziona più dico M plus no me la devo non da però scusate facciamo così vi tengo sulle spine fino al prossimo video dai facciamo così c'è mia mamma che sta spegne la luce sto rele fa un casino oh cacchio che poi sto cacciavite non va manco bene perché non gira non è male questo vedete non entra nel buco vedete non dovrebbe fa così eh così non dovrebbe fa un cacciavite quindi ci vuole quello piccolo e ce l'ho fuori però non mi va di prenderlo e quindi ci vediamo nel prossimo video per adesso io mi fermerai qui proviamo che funziona 98 meno 98 più 3 uguale non si preme uguale ma questo è normale tranquilli 3 è uscito 12 98 meno 98 più 3 12 quindi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like se vi è piaciuto ma se non vi è piaciuto non lasciate niente io vi dislike e non vi sto zitto e noi ci vediamo domani il nuovissimo video ciao caga sono fatto